Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting, qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di Mattan Associates International Consulting, io sono Luigi Matarazzo e sono il fondatore e il direttore dell'azienda. Oggi parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore, il fallimento. Che cos'è innanzitutto il fallimento? Il fallimento è qualcosa che noi tutti, soprattutto in Italia, ma in realtà anche nel mondo, vediamo come qualcosa di negativo. Il fallimento è non riuscire, non avere successo nel raggiungere un traguardo o nell'intraprendere un'azione e tutti noi vediamo il fallimento come qualcosa da assolutamente allontanare, il più possibile dalla nostra vita. Noi vogliamo sempre avere successo al primo tentativo e questo è un po' quello che noi sentiamo vero quando pensiamo al fallimento, ma io sono qui a dirti che non è così. Fallire ha, a mio avviso, tutta un'altra accezione e non mi piace nemmeno come parola perché non credo che rappresenti propriamente quello che vuole dire. Iniziamo innanzitutto dal paradigma che noi tutti abbiamo. Perché quando pensiamo al fallimento pensiamo subito a una sensazione negativa, il non riuscire a raggiungere qualcosa. Perché abbiamo questo paradigma nelle nostre teste? Secondo me tutto questo nasce dal contesto in cui viviamo, dall'educazione che abbiamo avuto e dalle altre persone, quelle che noi magari stimiamo o a cui magari ci ispiriamo. Infatti se pensiamo alle grandi storie che ci hanno accompagnato per tutta la vita, noi vediamo che c'è sempre il successo di mezzo. Noi siamo ispirati dal successo di altre persone, ma anche della storia. Pensate ai vari eventi storici che abbiamo studiato nella nostra adolescenza e a quante volte ci siamo emozionati durante alcuni avvenimenti che hanno portato al successo di una nazione o di alcuni individui. Il successo nasce da delle azioni che sono state compiute in modo positivo, che hanno portato dei risultati ottimali in quella situazione, magari anche inaspettati, ma comunque che alla fine sono stati di gran valore per altre persone magari o per un determinato contesto. Ora, il contesto è una parte fondamentale della nostra vita sia quando siamo giovani che in età adulta e sentire storie di successo non solo ci ispira, ma ci spinge magari anche a intraprendere dei percorsi diversi o magari ci spinge a migliorare noi stessi per raggiungere dei risultati che riteniamo più vicini alla nostra personalità o ambiti. Ed è giustissimo. Io credo che non ci sia nulla di più importante che seguire delle storie di successo per ispirarsi. Tuttavia, la cosa importante da analizzare e da capire è che ogni storia di successo deriva da decine, centinaia, forse anche migliaia di storie di insuccesso. E dobbiamo assolutamente entrare in questa ottica. Il fallimento è la parte integrante del successo. Senza il fallimento il successo non avviene. Quasi mai. Infatti, spesso, quante volte sentite parlare di storie che hanno cambiato il mondo, che hanno cambiato le nostre vite, prodotti creati apparentemente dal nulla, che adesso abbiamo tutti i giorni dentro la nostra casa? Beh, questi prodotti non sono stati creati dal nulla perché magari dietro c'era un genio, perché magari è stata la classica botta di culo o comunque una fortuna sfacciata. Non è così. Spesso, anzi io direi sempre, ogni prodotto o servizio che ha cambiato la storia dell'umanità, ma anche un'impresa che ha cambiato la storia dell'umanità, deriva da una serie di fallimenti, di una serie di insuccessi, che poi si sono trasformati nel tempo nell'unico successo che è davvero ricordato dalla popolazione. E questa cosa deve entrare, deve entrare nelle nostre teste. Non si può pensare che il successo esiste autonomamente, indipendentemente dal fallimento. Tuttavia questo è quello che alcuni venditori provano a propinarti. La sicurezza di avere dei rendimenti di successo o la sicurezza di avere un ammiglioramento della propria vita drastico senza incampare alcuni fallimenti. Questa cosa non può succedere. Ci saranno sempre dei setbacks, se dici in inglese, dei fallimenti che ti faranno anche mettere in discussione quello che stai facendo e le azioni che stai conseguendo. Ma tuttavia bisogna imparare ad apprendere che questi fallimenti, piccoli magari, o anche grandi, sono soltanto dei tentativi. Sono dei tentativi educativi. Ogni volta che tu tenti di fare qualcosa, devi tentare prima di riuscirlo a farla bene. E questo si applica in ogni ambito. Quindi si applica quando impari ad andare in bicicletta quando sei piccolo. Hai mai visto un bambino che senza mai essere salito su una bicicletta riesce a pedalare come un ciclista professionista? Ovviamente no. Quante volte hai visto dei bambini cercare di gattonare o di camminare con difficoltà e riuscirci soltanto dopo tanti tentativi in cui cadono, si fanno male, piangono, ma poi si rialzano e ritentano, finché a un certo punto camminare diventa facile, diventa automatico. In ogni ambito si ha questa cosa qui. Pensa anche al tuo lavoro, qualsiasi esso sia. Quando hai iniziato probabilmente non sapevi mettere mani a quello che stavi facendo, magari sapevi molta teoria, ma non avevi nessuna pratica, non avevi nessuna esperienza. E quindi magari anche guidato da una persona con più esperienza di te e facendo dei tentativi, mettendoti in discussione, mettendoti in gioco, sei riuscito a trovare la tua quadra, sei riuscito a far diventare quell'attività qualcosa di automatico, di naturale, che magari adesso fai senza pensarci, in modo inconscio, e ti riesce bene. Qualsiasi cosa funziona così. Quindi perché se adesso tu provassi ad aprire un'azienda e fallissi, dovrebbe essere un problema, dovrebbe essere diverso da quando impariamo ad andare in bicicletta? Non lo è. Davvero non lo è. E deve entrarti in testa. Quando inizierai ad investire, perché vorrai modificare la tua vita e migliorarla in modo serio, drastico, per avere un futuro migliore. Non è detto che i primi anni riuscirai ad inquadrare la strategia giusta. Non è detto che i primi anni non perderai alcuni soldi. Potrebbe succedere. Soprattutto se non hai un mentore o delle persone, dei consulenti o anche soltanto dei maestri che ti introducono a una corretta strategia di investimento. Questo è molto importante ovviamente. Come in qualsiasi lavoro, come un bambino in bicicletta, una persona che ti segue, ti è non solo utile ma ti è fondamentale per evitare di commettere più errori, per evitare di cadere più volte. Quindi un adulto che aiuta un bambino ad andare in bicicletta e poi lasciarlo libero è ovviamente di un valore incredibile per il bambino. E quindi se il tuo manager ti insegna come lavorare, ovviamente ti aiuta ad evitare di commettere tanti errori. Insomma, hai capito dove voglio arrivare? Quando investi, quando crei un business, quando vuoi vendere qualcosa, avere qualcuno che ti insegna è fondamentale. Ma questo non significa che non potrai fallire. E quello che è importante è che il fallimento non è grave, anzi. Senza fallimento non si arriva ad avere successo e questo deve entrarti in testa. Per farti un esempio, pensa alla Silicon Valley. In California, e precisamente nella Silicon Valley, diciamo regno di investitori e piccole start-up che poi diventano magari anche grandi aziende, beh, in Silicon Valley gli investitori premiano e decidono di lavorare, solitamente, ovviamente non sempre così ma veniamo a capirci, con persone, businessmen, imprenditori che hanno già fallito almeno una volta. E questo è perché il fallimento nel mondo dell'impresa e degli imprenditori è visto come qualcosa di positivo. Non tanto il fallimento, ma essersi rialzati e riessersi presentati con un altro business plan e con un'altra idea, con un altro progetto, nonostante aver fallito la prima volta. Immagina di essere uscito dall'università e voler a tutti i costi lavorare in banca. Ora, tu puoi mandare delle email alla banca, puoi inviare delle application online a diverse banche della tua zona o magari d'Italia, ma con tutta probabilità non verrai assunto alla prima occasione. Ogni volta che mandi delle application, metti in conto che molte di esse non riceveranno risposta o molte di esse verranno rifiutate dalla banca o dalle banche. Beh, perché allora non ti fermi dopo la prima banca? Se fare impresa e fallire è così mediocre e ridicolo come la maggior parte di noi ha in mente, ha in testa, beh, perché allora fallire nella ricerca di un lavoro non dovrebbe essere mediocre allo stesso modo? Ovviamente questa provocazione è per dirti che non è mediocre in nessuno dei casi. Cercare un lavoro, mandare dell'application e venire rifiutato è un tentativo. Andare da un colloquio di lavoro e non essere accettati è un tentativo che hai fatto, che ti fa migliorare, ti fa magari per la prossima volta dire cose diverse, ti fa preparare meglio, ti fa capire come funziona un colloquio di lavoro, ti educa a rapportarti con delle persone che sono lì per valutare le tue abilità e la tua esperienza. Tutte queste cose sono educative, quindi anche se dicono no, ovviamente non è piacevole, ovviamente sembra che ricominci tutto da capo, devi mandare altre application, devi farti assumere in qualche altro modo e ovviamente quel no fa nervosire perché comunque tu ci hai speso del tempo dietro quella banca, magari anche a studiare cosa fanno, cosa non fanno, tuttavia non ti fermi, tu vuoi un lavoro in banca e quindi continui a mandare application ad altre banche e continui a fare i colloqui di lavoro e se tu senti i tuoi amici ti diranno fai bene, continua, vai, continua così, prima o poi il lavoro giusto arriva e giustamente ti motiveranno a trovare il giusto lavoro. Ora, perché questa cosa non dovrebbe essere corretta con le imprese? Quando tu apri un'azienda e inizi un'attività, la maggior parte delle volte all'inizio sarà difficile, difficilmente tu avrai risultati subito positivi. Ovviamente questo potrebbe succedere e potresti avere subito successo, ovviamente poi nasce la definizione, ovviamente poi nasce quella che è la definizione del successo che magari farà parte di un altro podcast o un altro episodio, ma è difficile che immediatamente tu avrai successo, spesso le prime volte, il primo anno, i primi anni sono difficili e c'è bisogno di tanto lavoro e in questo caso sentirai gli amici dire ma non funzionerà, guarda che è difficile che riuscirai ad avere successo, ma secondo me dovresti far così, ma secondo me dovresti far colà e poi magari quell'azienda non va, quell'attività deve chiudere perché hai fatto male dei conti, perché magari non c'era così tanta domanda come te l'aspettavi, perché magari cambiano le situazioni personali, familiari, aziendali, perché magari c'è un problema a livello del contesto, di tassazione, perché magari fai degli errori e l'azienda fallisce e quindi sei costretto a chiuderla e questo indubbiamente ti crea imbarazzo, questo perché rapportarti con gli amici e dire ho provato a creare un'azienda e ho fallito nella nostra società è molto più imbarazzante di dire ho provato a trovare un lavoro, sono andato dal colloquio e non mi hanno preso, ma non ha senso, anzi ti dirò di più, io credo che avere i coglioni, avere le palle di aprire un'azienda e di mettersi in gioco e di provarci e dare tutto se stesso per provare a creare qualcosa per la comunità, per se stessi e per la tua famiglia, che sia diverso da soltanto andare a lavorare per un'azienda, per un governo o per una banca, un istituto finanziario, è più nobile perché richiede diverse abilità, richiede uno studio, richiede un voler mettersi in gioco, richiede anche una buona dose di menefreghismo. E questo è il punto a cui io voglio arrivare. Come fare ad evitare che il fallimento sia imbarazzante? Te lo dico io, devi iniziare a pensare al fallimento come un tentativo per arrivare al successo, un tentativo necessario, un tentativo che non puoi evitare, un tentativo che ti porta a educarti e a fare meglio la prossima volta. Quindi bisogna cambiare il paradigma, il fallimento non è più visto come qualcosa di negativo, ma è visto come qualcosa di positivo. Ci ho provato, è stato un tentativo che mi ha portato a capire questo, questo, questo. Ho imparato questa lezione e la prossima volta sicuramente non sbaglierò. E la prossima volta, anche se dovessi risbagliare, sarà ancora più importante per me la lezione che per la terza volta dovrò fare meglio. E poi soprattutto fregarsene dei giudizi altrui. Ovviamente questa cosa l'avrai sentita dire duemila volte da magari anche altre persone, magari anche il tuo amico ti dice sì fregatene di quello che pensano gli altri. Hanno ragione, queste persone hanno ragione, però tu devi implementare questa cosa nel modo più corretto per la tua vita. Devi imparare a fregartene, devi imparare a non considerare tutti i pareri delle persone a te esterne. prendi due o tre persone a cui tieni. Potrebbe essere tua moglie o tuo marito, potrebbe essere tua madre o tuo padre, potrebbe essere un amico stretto, un amico che ti fa stare bene, un amico che crede in te. Prendi queste tre persone e curati soltanto del loro parere. Tutti gli altri non sono importanti. Tutti gli altri proveranno sempre e soltanto a tirarti giù. Proveranno sempre e soltanto a farti rimanere nella zona di comfort che non ti porta da nessuna parte. Questo punto secondo me è molto importante, però non è così facile da applicare. Ora con l'era dei social network, con l'intercomunicazione tra le persone. Nell'era del siamo tutti facilmente raggiungibili ed è facile capire cosa sta facendo la gente. Ovviamente nel momento in cui ti metti in gioco sei sotto l'occhio di tutti e soprattutto sei davvero preso quasi di mira in alcuni casi. Quindi capisco che sia una cosa difficile da implementare ai giorni nostri. Tuttavia se vuoi iniziare a fare impresa e se vuoi iniziare a costruire un futuro diverso da quello che hai in questo momento, devi far sì che le opinioni altrui ti scivolino addosso. Spesso le persone non vogliono che tu fai qualcosa diverso da quello che hanno fatto loro o che stanno facendo. Le persone non capiscono ciò che non hanno fatto, non capiscono ciò che è diverso da loro. Non ti fa ricondizionare dai pareri di questi individui esterni che non riescono a comprendere chi sei, dove vuoi arrivare e soprattutto perché stai facendo determinate cose. Non vuoi essere coinvolto nel loro ragionamento, non vuoi essere coinvolto nelle loro emozioni, non vuoi essere coinvolto nella loro visione pessimistica del fallimento. È importante e spero che questo podcast, questo episodio nel suo piccolo possa esserti utile a modificare il paradigma che hai sul successo e sul fallimento. Pensa che non esiste davvero il successo senza fallimento, te lo dicono tutti i più grandi imprenditori della storia. Basta leggere la biografia di Elon Musk, di Bill Gates, di Steve Jobs, Warren Buffett. Questi individui hanno sperimentato il fallimento innumerevoli volte. Non scorderò mai la storia di Ray Dalio, di cui tra l'altro consiglio il libro, che in italiano dovrebbe essere I principi del successo, dovrebbe essere uscito nel 2017, se non sbaglio. Un libro assolutamente consigliato e che merita una lettura approfondita, soprattutto per superare questa idea di fallimento. La storia di Ray Dalio è interessante perché egli, dopo essersi fatto un nome a Wall Street, dopo aver avuto una sequenza di successi indescrivibili uno dietro l'altro, egli puntò tutto su una crisi finanziaria che secondo lui sarebbe avvenuta da lì a qualche anno. Ed era talmente sicuro della sua idea che davvero puntò tutti i suoi soldi su quella previsione e li perse tutti. Perché fu soltanto un rimbalzo del mercato azionario, non ci fu una crisi finanziaria e quindi perse tutti i soldi a tal punto che dovete chiedere 4.000 dollari al proprio padre perché non si poteva permettere di pagare l'affitto per quel mese. Ora, Ray Dalio racconta di come lui si chiese a quel punto se magari il mercato finanziario Wall Street e gli investimenti non facessero per lui e si chiese se forse la scelta giusta sarebbe stata quella di lavorare per una banca o magari per un altro istituto finanziario o per un fondo di investimento e finirla lì. Beh, lui decise di rischiare pur di non fare una vita che lo avrebbe, che avrebbe rimpianto per il resto dei suoi giorni e decise di ritentare nonostante avesse perso tutto e nonostante tutte le persone a lui intorno si fossero allontanati dopo quel fallimento. Beh, lui ricominciò da capo, si mise di nuovo in discussione ed ora è uno dei più importanti hedge fund manager della storia, tanto che la sua Bridgewater & Associates gestisce circa 127 miliardi di dollari dei propri clienti. Ora, ovviamente erano tempi diversi ed c'era un contesto diverso, ma la storia è attualissima e davvero io così ve l'ho soltanto riassunta in poche parole, in poche righe, ma vi consiglio davvero di leggere il libro perché dà degli spunti incredibili per la crescita personale, per la motivazione e soprattutto anche per questo tema di cui stiamo parlando oggi, cioè del fallimento. Insomma, per riassumere quello che abbiamo detto oggi dovete eliminare il paradigma del fallimento come una cosa negativa e da evitare a tutti i costi. Dovete pensare al fallimento come un tentativo per raggiungere il successo e ricordatevi che alla fine dei giochi, nonostante quello che dica la gente, verrete ricordati per i vostri successi, quindi non lasciate che il fallimento sia per voi imbarazzante o sia per voi una scusa per non ritentare. E l'ultimo punto che abbiamo toccato oggi è fregarsene delle opinioni altrui, non è importante quello che la gente pensa, l'importante è avere risultati nel lungo periodo, raggiungere il successo dopo anche innumerevoli fallimenti. Non vi spaventate e parleremo della paura che è un'altra emozione da evitare come la peste, ma non vi spaventate del fallimento ma affrontatelo e pensate che è soltanto un tentativo per il successo. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, come al solito per me è un piacere essere qui con voi e parlarvi di questi temi. Fatemi sapere con un feedback, con un commento se questi temi, se questi episodi vi stanno piacendo e se magari ho tralasciato qualcosa nei riguardi del fallimento o come voi vivete il fallimento nella vostra vita. Se siete interessati ad iniziare a investire, fate un salto sul nostro sito web, ve lo lascio in descrizione, dovunque voi siate, Spotify, iTunes, Spreaker, YouTube, qualsiasi piattaforma dovrebbe avere una descrizione dove troverete il sito web e avere la possibilità di andare a vedere le nostre offerte, i programmi di consulenza e di coaching che abbiamo in serbo per voi. Ripeto, è stato un piacere passare un'altra domenica con voi, vi saluto e buoni investimenti a tutti. Ciao!